Amiche ed amici di Lauropoli, buonasera. Mi chiamo Andrea Selvaggi, lavoro nel terzo settore e stasera vorrei incentrare il mio intervento sulle politiche sociali, argomento che mi riguarda molto da vicino, operando in questo settore. Negli ultimi giorni ho sentito molto rappresentare il nostro territorio come un paese misero, come un paese dove la povertà è dilagante, come un paese dove la gente è disaffezionata, non ha voglia di incontrarsi e di parlarsi, come un paese fantasma. Ebbene, io credo che solo chi non conosce il territorio può dire questo di Cassano, solo chi non vive la realtà di tutti i giorni può affermare queste cose. È vero, esistono situazioni di povertà, esistono situazioni di indigenza, esiste il problema dei giovani, del lavoro, tutte cose che vanno affrontate in modo serio e rispettoso e che non possono essere usate per racimolare qualche voto in campagna elettorale. Quando si affronta l'argomento delle politiche sociali si deve far riferimento a quelli che sono i diritti sociali, rappresentati dalle risorse e dalle opportunità. Le politiche sociali devono definire le regole per la distribuzione delle risorse e delle opportunità, per garantire l'erogazione dei servizi fondamentali. Politica sociale vuol dire proteggere i cittadini dai rischi sociali, povertà, disoccupazione, analfabetismo, malattia, disabilità. Politica sociale vuol dire ridurre le disuguaglianze, dare sostegno alle fasce più deboli, con grande attenzione ai mutamenti della nostra popolazione, dedicare attenzione e sostegno alle famiglie più disagiate, creando garanzie di pari opportunità per i più deboli e favorire la nascita di centri aggregativi e di svago per i più giovani, in particolar modo per i soggetti con disabilità. Questo in quanto una politica di coesione sociale, di crescita sociale e per fare ciò devono essere le istituzioni ad indirizzare e fare formazione, determinare la crescita delle risorse umane. Operando nel sociale e a stretto contatto con le associazioni di volontariato, ho potuto constatare nel tempo la non rispondenza alle esigenze delle persone, perché la gente ha rispetto di se stessa, delle famiglie, da sola non risolve nulla, anche perché c'è già chi lo fa e lo fa nel silenzio. I bisogni sono svariati e molteplici ed è per questo che bisogna avere una visione più ampia della realtà. Le politiche sociali devono essere di sostegno, di aiuto, ma soprattutto di indirizzo. Serve coordinare i servizi sociali, insieme all'opera di altri soggetti che conoscono la realtà del territorio. Rispondere non in termini di singoli, ma di rete. Noi della bussola porteremo in primo piano queste problematiche e queste idee, insieme a tante altre. Ed è per questo che il 6 e 7 maggio chiediamo un forte sostegno per noi, per la coalizione, ma soprattutto per l'unico uomo, con i piedi per terra e con lo sguardo proiettato al futuro, che è in grado di dare queste risposte e che è Mimmo Lione.